veneri eccoci a senso dove riprendiamo il gioco non mi ricordo dove stavo andando dopo l'ultima volta aiaiaiaiai ricordatevi di iscrivervi al canale vai arrivare al 1.1 follower roccaforte ok di qua ci sono già arrivato questa già l'avevo fatta sta missioncina lo faccio vedere purtroppo nell'ultima registrazione è data a mano m 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 o mio dio ti ha sbordato nei capelli ho 93 anni fa quante pillole di via che ti prendi Sei vulnerabile agli infarti Miotti Dammi la Sanchez Siamo a Sander Storm Ecco Ti ho dimenticato come si guida Ottimo Andiamo Let's go Si ok Perché sono così handicappato in questo momento Scendiamo dai Le roccaforti sono nei centri di un'operazione di cascuna ghienga Trovo le spazze le vie per assistere Assestare due colpi a ghienga Oh si facciamolo Crackhouse è tipo Dopo aver scelto i loro soldi Il general ha deciso di essere un po' più discreta in come si muovono il prodotto I Sons hanno convertito il secondo flore di quella sex shop In un dust lab Quando si cuocano un nuovo batch Andavano i suoi soldi E vendono i soldi Bastardi Buongiorno Dianze Da Colcors Prendete la clientela di Son's E poi distrugga i dust lab Non vedrai te qui Trova la stanza e uccidi Consumatore di crack Cliente ucciso Alla che prepariamo No questa no Questa si Let's go Andiamo Camminiamo in prima data Non ci vede nessuno Oh ma Cazzo mi stanno Mi stanno facendo fuori Nonono 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 Satellite Schilfe Satellite È un po' così c'è sto avendo davvero dei grossi problemi a giocare abituato un po speck ops the line ho sbagliato porta e premuto cerchio per accogliere il parchimetro ok dai dai oh mio dio un headshot terribile fai fuori tutti dai oma da coppita poliziotto penso a quanto sei c'è una sparata grazie degli spoiler oh mio dio oh che bello dai 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 colpisci 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 è morta? così si mio dio che headshot ma guarda il cuorella siccome c'è un bel culo ti risparmi ma che diamine sto facendo ma guardate che sporcaccione guardate che sporcaccione ma questa come diamine è entrata oh mio dio vado vicino chissà come succede oh mio dio io ho sparato nel culo wow ciao non ti aspettavi mica lo spogliare in lista vero? anzi la spogliare in lista le tue ultime preghiere dai ti do 5 secondi per fare la preghiera 1 2 3 4 e 5 troppo bello mancano due ma guardate ma guardate ma guardate l'ammazzo a mani nuca non mi colpisci 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 ce l'ho fatta vai di sopra e distruggi le attrezzature per la droga fantastico ehm ma guardate la resistenza lì sopra di sicuro qualcuno che mi romperà il cazzo mentre qui ci sarà merda non lo sento minchia due piccioni con una ah no uno sotto mio doro oh mio lord oh mio lord riposci potrei sfruttare la testa e andiamo Ok, quindi questo Dovevo distruggere Ho sbagliato porta Non te ne mancano Due Ricarichiamo Guarda quelli Guarda te che intelligenza Artificiale Così Sembra la banda La banda di CJ Grove Street Aiuto È troppo bella la cosa Ma qua non si fa la capriola? Sì, me la ricordo che si facesse la capriola Oh merda Ma se ti spari in testa Tu devi morire Cambiamo arma Andiamo con questa Dai No Pessimo mosso Così Dai Dai Ma pensa te Aggiungi la scala antigenia Ma va Oh Eh dai Oh Mi dobbiamo avvicinare da lì Prendo fuoco Ma cos'è sta cosa Pure E il mattone Vai prendi nuovo fuoco Mi dobbiamo avvicinare da lì Mi dobbiamo avvicinare da lì Mi dobbiamo avvicinare da lì Sì Non mi ha visto ancora Non mi ha visto Non mi ha visto Oh Che Andiamo Forza Che sarà un bazooka da queste parti no? Oh beh Ma ci sarà un bazooka da queste parti no? Dove sei? No non voglio sprecare questa Eh due coglioni Questi si risparmano pure Prendiamo Che distanza Ve la batte Non mi dico che non riesci a saltare Ma va a cagare oh Cristo santo E se finisco le munizioni come fa? Già fatto Finito Stato magnifico Due mila dollari Sbloccato auto da una ganga personalizzata Sbloccato i primi 7 di auto della ganga personalizzata Vedo la pazienza si veniva nella ganga che non le cove dei saints E' abbastanza rispetto per fare altre Per giocare altre missioni Vai Salvato oggi è in corso Però mo come scendo da qua? Mo come scendo da qua? E mo come scendo da qua? Guardate che non salta Non ci posso credere Non ci posso credere Andiamo su Che bella macchinina che c'è No aspetta la voglio Se non è sparita la voglio E' sparita E' sparita la macchinina Vaffanculo Ah Ma c'è scritto escort Ah ma è lì sopra Che devo fare? Ma devo portarla in giro Modalità escort Presentazione Hello mon amie Where said woman could entertain lustful individuals Or while maintaining the privacy Sox might be able to pay you in cash or in trade Cash is good Looks like we have a sense of partnership no? Partnership nothing Sembra la modalità pappone Questa progettà e tieni lontani i paparazzi per guadagnare di noi rispetto Somiglia moltissimo Al Alla missione pappone di GTA San Andreas Sempre più somigliante Preleva il cliente Che cazzo è pirata dei carabie questa? Ciao honey Quanti si riempi a spiegare alcuni dei miei ultimi Ho Ehm Quanto hai fatto questo? Aspetta che non hai alcuni planchi che involverano la mia ass Quanti si riempi a spiegare alcuni Ehm 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 You don't mind if I switch holes do you? You're doing great baby Oh I'll shiver your timbers all right How's that feel? How's that feel? How's that feel? What's the teeth, Lass? Huh You're delicating the door in the place This is just a ghost Or those pictures will break my poor mother's heart Ha Naughty Oh that's it girl You're making my Roger plenty job Ops You know what you're doing Oh Hihihi Quelli son pazzi Quelli che voglio fare le riprese son pazzi Oh It's nice not to have to think that they're in the cliente All cannons Fire Dammit Dammit Oh mio dio Detro oscurate non c'è il cambio visuale Thanks for coming I'll be sure to look you up next time I make port in these parts S Continua mi dici 500 500 50 dollari Ah 100 dollari Andiamo avanti dai Un'altra Oh mio dio Oh mio dio Quanti sono Quante sono Quante sono le missioni della 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 Forse sei Te le facciamo tutte e sei dai Ma davvero mi fai usare la macchina per prendere qualcuno a piedi qua Oh Guardatevi Guardatevi E' spammato E' tutto Qua non c'è nessuno dentro Ma non c'è nessuno dentro No veramente c'è questo ma non sto facendo niente Ma non sto facendo niente Ma non sto facendo niente Ma pensi che Cosa hai stato Andato Tipo Si Ma... Quante che Quante è il problema Quante è che entri al bordello per un po' di spasso extra E' qual è il problema Posso solo dire qualcosa? Ero in giro! Ogni volta! E mi devo abituare Poi! Ragazzo, dove è questo bordello? Ma dove è questo bordello? È talmente lontano! Ora è il tempo di ottenere quella pagina! Le imboscate! Sto cercando di lavorare qui? Non c'è nulla come una piccola squadra! Sei un animale! Sì! Non! Non credo che mi segui qua! Non credo che mi segui qua! Se la mia figlia vedrà quella foto, perdono il mio condo! Non credo! Non credo che mi segui qua! Sì! Sì! Lo meno che potrebbero fare è ottenere il mio buon signo! Io sono un buon signo! E' tutto! E' tutto! Frida il telefono! Chiudi i tuoi occhi, amore! Sì! 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 Le riprese valgono... Vanno velocemente rispetto al piacere del cliente! Sì! Ricordate che ogni volta la 10 è libera! Tu potresti sbagliare quello! Sì! Sì! Troppo bello! Sì! 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 Continua! L'ultima! E basta! Ok! Dovrebbe arrivare a 6! Ok! Ci vedete farlo divertire! Sì! 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 Giorno! Io l'ho impiegato da diventare! Sì! Ehi v我觉得 è essere delicata! Oh no! Non mi sono così! Mi metto a sparare! быть те wrong! Già! Sì! superhero ha ilcio Kirchino! Mag PhD! Tempito daknar pequeñita lavora! E' hoeampiere ha pulito! non ti voleva, non mi posso metterla a sparare perchè cale è piacere eh cazzo a cazzo quelli sentono gli spari non gli si drizza al cliente, non gli si drizza al cliente oh merda oh merda questo mercello non mi non solleva cosa no 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 uccidi in bersaglio no 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 oh 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 no no cdc cristo santissimo proposte il cielo da forti consiglierevo che è in garage per mille dollari ma che cazzo mi costava di meno il livello il mio meccanico gta 5 cristo santo oh oh il cliente è licio oh 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 questo dovrebbe essere divertente sei pronta per giocare? oh 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 no oh oh mio dio è finito oh 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 andiamo Per favore non sei un f***o furro. Tu sei troppo divertente per me. Ti senti che la vita è solo una morta prolongata? Questo non è un offero per la prostituzione. Questo money è per il mio tempo e il mio tempo solo. Quali cosa che succede tra due adulti consente non ha nulla a fare con il money. Non sono spioli, sono piacere di piacere. Non ti capisci di non cercare di uscire? Lli uscire! Cosa è che ho detto? Tu dovresti farlo, questo non è un profilo in esattamente low. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow! In tutto e per tutto GTA questo. Ma che cosa è che ha detto? Non sono riuscito a leggere il tempo perché è apparso il... Il... Il non farti fotografare dei paparazzi. È morto il bersaglio. Ma mica l'ho ucciso io il bersaglio. L'hanno investito i paparazzi. Ottimo però. Forza. Due stelle di bronzo sgommando. Ah. Ok. Ok. I can't keep sitting like this. It's starting to chaff. Oh e dai! Oh e dai! Oh mio Dio! Questa sì che è stato incredibile. Questa sì che è stato incredibile. Dica che devo arrivare al livello 10 eh. Faccio fino al 6 e basta. Ho ancora una dai. Forza. È dietro l'angolo. Mi scusi. Non l'avevo visto con sti capelli. Oh merda. Che palla. Sfuggi al fisco. Muo pure il fisco. Sfuggiamo al fisco. Sfuggiamo al fisco. Accompagno il cliente all'università. Attenzione. Piccola Shangai. E' che mi insegue. La benda è arrivata forse. Un attimo eh. Ci sto arrivando all'università. Fammi. Fammi sfuggire a sti strozzi. Hai visto? Corsa alla guida spericolata. Dai. Un attimo. C'ho la scorta quindi. Andiamo. Grande. Oh mio dio. E' finita la scorta. Ti sto portando. All'università. Un attimo. Minchia. Wow. E' finita la scorta. Ti sto portando. All'università. Una minchia. Ok. E' un po' piove. Sfuggi al fisco. Oh, aspettate un secco. Il mio fisco è spingendo. Let me show you how it's done. Oddio. Andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua. Chissà c'è un super salto e poi... Vado... AAAAAH SCATTARMI! Non ho guardato errata. Forza. 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 Fatemi uscire. Fatemi uscire. Scusate. Son caduto. Enrico. Meti. C'è una piazza. Non chiaramente. Step into my office. Wow. I guess I'm getting my money's worth today I cooked that bill about a half hour ago So we should be good Ready when you are Just keep your head down baby and we both come up with us Oh my god You have to get out of here Damn, be more careful Fly this puppy Oh damn it, I need that bill You're a stupid bitch No, 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 get out of here Ha 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 Not bad kid Hey! You want to do your damn job? Just like that baby I'm getting close to you And they're still there And they're still there And they're still there Keep your head down baby and we both come up with us And I'm dreading this son of a bitch Damn it, I need a bitch Pensa a te Cristo santo Camino di pari passo Piacere della ripresa Our girl is as white as a ghost Ok, your turn I'm getting tired Wow Hey! Do you want to do your damn job? Oh, what do you have in there? These fingernails aren't just for show, you know? No Not today, badger scum Dammit You still have enough damage? That was great You don't know where the brake is? Prepare yourself I'm going deep You know, it's not easy for me to work back here when I have to wear a seat belt Call me anytime Oh honey You just made an old man very happy Finito? Credo che sia finito Finito Questa consegna veicolo Questa consegna veicolo Questa consegna veicolo Che hai in garage Gratuitamente Yes! Finito Si, me lo sono girato tutto Yes Congratulazione Comitato il livello della modalità prevista Se giochi di nuovo in questa modalità potete tenere una sommità raro Ma non rispetto E fino a qua ci siamo Beh ragazzi Io spezzo qui Let's play Anche se non abbiamo fatto missioni Abbiamo fatto piccole missioncine Così secondarie Per divertimento e per svago E noi ci vediamo Alla prossima parte di Science of the 2 Ma non mancate anche gli altri video che escono durante la settimana Bye bye